Ed ora parliamo della capanna di Natale della parrocchia di Seriate, una capanna al passo con i tempi che racconta un po' quello che stiamo vivendo. Siamo tutti consapevoli di essere dentro un tempo molto particolare caratterizzato da questa epidemia e quindi anche la capanna di quest'anno ho voluto assumere il volto e i tratti di questo tempo segnato dalla pandemia. E allora mi sembrano due significati legati a questa capanna particolare. Uno è la considerazione che il Signore non viene in un tempo asettico o fuori dal tempo, ma dentro il tempo, dentro la storia degli uomini e quindi i volti con le mascherine rappresentano proprio questo. Però abbiamo voluto anche lasciar scegliere i colori ai bambini e loro si sono sbizzarriti e ci hanno quindi ridonato proprio attraverso i loro occhi birichini e insieme ai colori vivacissimi. Ci hanno ridonato e ci hanno regalato e vogliono regalarci il segno di un Dio che viene in mezzo a noi, l'Emmanuele, il Dio con noi e quindi viene a ridonare la pace e la speranza a tutti noi. E l'augurio che faccio alla mia comunità ma anche a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.